Spera di riacciuffarli. Speranza e fortuna devono camminare insieme. Naturalmente non è la speranza mancare. Speriamo di accoppiarla alla fortuna. La ringrazio. Buongiorno. 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 Fatò? Sì? Fa' entrare la ragazza. Agli ordini, commissario. Si accomodi, prego. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Sì, sì. Mi dica. Ecco, vede, io sono venuta qui per testimoniare. In Carrel, la banca al momento della rapina. Sì, questo lo so. Spero che lei possa dirmi qualcosa di veramente utile su una rapina. Lei è francese, vero? Sì, sì, sono francese. Mi trovo in questa città per lavoro. Ecco il mio passaporto, commissario. Fai trascrivere i dati. Che lavoro svolge, signorina Carrel? Beh, spero che lei non sia un puritano, commissario. Io faccio lo strip-tease in un nightclub. Le cose belle piacciono anche a me. Penso che lei sia venuta qui per dirmi qualcosa di importante, signorina. Ho visto il viso di un rapinatore, commissario. Come ora vedo lei. Io ero in banca, vicino alla cassa. E a un certo punto sono entrati i banditi che ci hanno minacciati con le armi. Hanno preso la borsa a una povera donna. E l'hanno anche malmenata. Così lei per difendersi ha scoperto la faccia di uno di loro. Poi sono fuggiti. Ma io l'ho visto. L'ho visto benissimo. Questa è una notizia preziosa. Sarebbe in grado di riconoscerlo, signorina? Sì, sì, senza dubbio. Vediamo se è fra questi. Grazie.